Vi protegge d'inverno dal freddo e dalle intemperie ed estate dal caldo con le sue innovative tapparelle in alluminio e le potete avere su misura e azionare con le nuove cinghie facilitate a pronta presa o con il telecomando Tapsimatic. L'installazione è compresa nel prezzo ed è effettuata da tecnici Tapsi specializzati che si occuperanno anche del controllo della coimmentazione dei cassonetti chiamate per un sopraluogo che è necessario per la presa delle misure di ogni singola tapparella. Tapsi è un prodotto italiano con il quale scoprirete un risparmio sulle bollette per riscaldare o rinfrescare a casa vostra perché riparano dal freddo, riparano dal caldo ma fanno circolare l'aria grazie allo speciale design delle asole. Con Tapsi avrete un'offerta personalizzata arricchita da una serie di vantaggi smaltimento delle vecchie tapparelle, montaggio e collaudo dei nuovi avvolgibili e conformità dell'installazione. Per voi comode rate mensili e possibilità di detrazione fiscale come da normative vigenti. Chiamate per informazioni. In novembre the snow starts to fly Chiamate per informazioni. Chiamate per informazioni. Chiamate per informazioni.